Eccoci di nuovo ragazzi per la nostra diretta radiocronaca in diretta, il commento di Radio Pugginioner ad accordi e disaccordi i suoi ospiti. Ora c'è Antonio Di Pietro in diretta con noi che saluta il pubblico, chiede Luca Sommi cosa sta facendo Antonio Di Pietro in questi giorni, qual è il suo lavoro, risponde Di Pietro sto potando gli ulivi. Ho finito la vigna, nello stesso tempo seguo gli eventi pubblici perché quello che sta succedendo in questi giorni è molto interessante e mi riporta indietro di oltre 30 anni. Le parole di Cantone, dice Luca Sommi, sono state inequivocabili. Che idea si è fatta di questa vicenda? Chiede Luca Sommi, qualche servitore dello Stato infedele, che idea si è fatto? Risponde Di Pietro che ci sia qualcuno, più di uno, servitore dello Stato infedele, è ovvio, chi siano, spero che le autorità giudiziaria li scopra. Il problema è un altro che esiste un mondo parallelo a tutto ciò che accade ufficialmente e che cerca di indirizzare la conoscenza dell'opinione pubblica su questioni che interessano quel mondo parallelo, interessano quel potere che non è fatto da una sola persona, ma il sistema di informazione è il giudice della democrazia. Se però viene usato strumentalmente per abbattere l'avversario non è più democrazia, ma è un potere assoluto che mina la democrazia. A me è successo sul piano personale, racconta Di Pietro. Domanda Sommi, quando un giornalista viene a conoscenza di informazioni, le verifica, poi le pubblica al di là, indipendentemente da come è arrivata la notizia, proteggendo le sue fonti. Lei sta insinuando che è andata oltre il confine questa informazione? Dice Di Pietro, innanzitutto credo che in tutti i settori del mondo giudiziario, organi di polizia, ordine dei medici, giornalisti, geometri e quant'altro, c'è la mela marcia ovunque, insomma sta dicendo, non significa che bisogna buttare via acqua sporca, acqua politica. Al di là di qualche fatto personale che può accadere, il problema che io mi pongo non è chi riferisce la notizia, specie se è vera, che è l'unica cosa a cui deve tenere il giornalista, ma mi riferisco a chi promuove la notizia. Io l'ho vissuta sulla mia pelle, dal primo giorno che è iniziata Mani Pulite mi hanno messo sotto controllo telefonico e hanno seguito passo passo tutto quello che ho fatto, hanno utilizzato quell'informazione nel momento in cui stava arrivando quella persona piuttosto che quella persona. Qui il problema non è di chi fa informazione, a me l'informazione a volte ha fatto molto male, ma io preferisco vivere in un paese dove c'è un'informazione che riferisce fatti veri piuttosto che non ci sia un'informazione o che sia deformata da chi la utilizza per fatti propri. Io me la prendo con chi strumentalizza quell'informazione per creare un dossier. Il dossier serve per squalificare l'avversario non sul piano delle cose concrete, ma su quello della delegittimazione. Qualcuno dice che viene anche delegittimata l'istituzione, dice Luca Sommi. Qualcuno sta mettendo in discussione la bontà dell'istituzione della procura antimafia. Lei condivide il fatto che ci siano tanti striano, questo lo sta rispondendo già Di Pietro. Sicuramente dice che ci sono stati tanti altri palamara di cui non abbiamo scoperto granché. Ci sono a volte dei giornalisti che non prendono la notizia avvenuta, ma fanno in modo che si costruisca la notizia. Questo è un mondo malato in cui, appunto in questo mondo malato parallelo, c'è chi si fa gli affari propri sulle spalle della collettività. Detto questo, sulla procura antimafia, io credo che ci debba essere... E sia un peccato se qualcuno la mette in discussione, la commissione antimafia, scusate. E' stato detto anche dal procuratore Cantone. La banca dati della Direzione Nazionale Antimafia e tutte le altre banche dati pubbliche, c'è la necessità di rivederle perché sono obsolete e facilmente vulnerabili. In questo caso c'è una responsabilità oggettiva, chi ha governato la Direzione Nazionale Antimafia doveva preventivamente attivarsi affinché questo, dice Di Pietro, non accadesse. Ma bisogna tutelare le banche dati perché sono interessi di tutti. Gasparri ha detto ma in fondo questi magistrati fanno le indagini, poi si candidano con la sinistra. Travaglio ha ricordato che l'attuale Ministro della Giustizia è un magistrato, Nordio. I magistrati in politica, lo chiedo a lei, dice Sommi, perché lei ha fatto tanta politica, dopo tanti anni cosa ne pensa? Vediamo cosa risponde Di Pietro. Di Pietro dice io penso questo, l'arbitro può fare il giocatore, è un diritto costituzionale di ogni cittadino giocarsi la sua partita politica, ma se si presenta per fare il giocatore non deve più fare l'arbitro. Io sulla mia pelle questo ho fatto, dopo due anni che mi sono dimesso ho iniziato a fare politica. Dunque in conclusione io dico c'è un pieno diritto anche dei magistrati di candidarsi, ma dal momento in cui si candidano, a prescindere dal fatto che vengano eletti o meno, non possono più tornare a fare gli arbitri, perché bisogna anche apparire oltre che essere imparziali. Un'ultima battuta, dice Sommi, in politica bisogna concertare mentre i magistrati devono decidere. Lei ha riscontrato questa cosa? Dice Di Pietro, è vero, è necessario e fa parte della democrazia. Il magistrato decide e invece in politica si concerta e si trova anche un punto d'incontro tra posizioni diverse. Detto questo lasciatemelo dire, io personalmente sul piano umano sono senza sé e senza ma a favore di Davigo. Gli auguro che possa risolvere i suoi problemi in Cassazione, ma rispetto le sentenze naturalmente. Qui finisce l'intervista ad Antonio Di Pietro, noi ci riascoltiamo tra pochissimo con il monologo di Marco Travaio, il passaparola che farà un ritratto del candidato presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, anche già presidente in carica, sarà uno dei ritratti fatti alla Travaio. E quindi noi ci riascoltiamo in un'altra puntata, potete ritrovarci fra poco in un'altra diretta in cui vi faremo ascoltare l'intervista e il monologo, scusate, di Marco Travaio, per cui ci riascoltiamo tra pochissimo in diretta. Grazie per essere stati con noi qui a Radio Pugini.